Inclusione e cultura nel Palazzo di Fraternita. Dal 23 settembre al 2 ottobre torna infatti ad Arezzo il progetto Colorarte in una veste completamente rinnovata. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Toscanabile con la collaborazione di AISA, il patrocinio della Fondazione Guido d'Arezzo, Provincia di Arezzo, Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana, Fondazione Arezzo in Tour e Fondazione Arezzo Comunità. L'arte unisce, l'arte tesse sinergie, l'arte è stimolo per far crescere le competenze e le conoscenze di tutti, l'arte dà sensibilità e cerchiamo di contaminare con questa nostra sensibilità il tessuto cittadino per far aumentare la suation sociale del sistema. Una serie di collaborazioni instaurate negli ultimi mesi con numerose realtà della società civile del territorio hanno permesso quest'anno l'aggiunta di nuovi temi all'interno della manifestazione ai quali si affiancheranno quelli della discriminazione e della violenza di genere. Diamo spazio sia con le nostre attività sia con gli eventi che ospitiamo anche ai temi che riguardano l'energia e l'ambiente. Tra gli appuntamenti torna anche il workshop organizzato assieme a Zero Spreco AISA Impianti. L'importante è quello di cercare di ottimizzare il tutto, quindi da una parte sostenere tutte le iniziative in favore della riduzione dei rifiuti, da quell'altra parte avere degli impianti che sono delle vere e proprie centrali di recupero totale che possono comunque contribuire a quello che fa bisogno energetico. Sono impianti che non devono essere più guardati solamente in relazione ai rifiuti ma in relazione a quello che possono riversare di positivo nel territorio che ne ha bisogno.